Costa 300 milioni di euro all'anno in meno per la campagna il riparto dei fondi sanitari che il governo stanzia a favore delle regioni in maniera non corretta secondo l'opinione del presidente della regione Vincenzo De Luca che ha messo in mora il ministero della salute perché ridefinisca i criteri di assegnazione. De Luca ha avuto modo di ribadire la sua posizione a margine dell'inaugurazione oggi a Salerno del nuovo parcheggio ed una serie di attrezzature multimediali all'interno dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Il presidente ha ricordato che il riparto deve essere effettuato su tre criteri età aspettativa di vita e deprivazione sociale cioè il reddito ma alla campagna in maniera scandalosa ha detto De Luca avrebbero applicato solo il primo criterio. Abbiamo messo in mora il ministero della sanità che non ha adottato gli altri due criteri quindi andremo fino in fondo fino alla Corte Costituzionale perché stanno derubando la regione Campania di 300 milioni di euro l'anno. Questo deve renderci ancora più orgogliosi per come abbiamo retto l'epidemia Covid. Per quanto riguarda l'inaugurazione c'è stato il taglio del nastro al nuovo parcheggio con 80 posti auto ad alleviare il problema della sosta dell'azienda ospedaliera ma anche un insieme di strumenti che attraverso innovazioni tecnologiche all'avanguardia consentono di fare esami analisi e interventi di maggiore precisione grazie alla realtà virtuale. Un pacchetto di investimenti per 10 milioni di euro sanziati dalla regione Campania a favore della struttura sanitaria salernitana. Oggi il taglio del nastro con il presidente Vincenzo De Luca è stato l'occasione per ricordare anche l'impegno preso sul nuovo ospedale per il quale il presidente ha annunciato che chiederà tre turni di lavoro all'impresa che si aggiudicherà l'appalto per garantire tempi rapidi di realizzazione. Completiamo il progetto esecutivo per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona e contiamo di completare anche la gara per i lavori entro il 2022 quindi stiamo cercando di correre per realizzare un nuovo ospedale in un'area pianeggiante e sarà ovviamente l'ospedale più moderno che avremo in Campania e in Italia. Nel corso del suo intervento nella sala multimediale De Luca ha assistito anche alla simulazione di un parto e ad un intervento in laporoscopia strumenti che saranno utilizzati dagli studenti della facoltà di medicina in attesa anche dell'arrivo di Leonardo un robot di telemedicina del valore di 3 milioni di euro. De Luca ha anche ricordato il progetto che riguarda l'ospedale da Procida di Salerno che la regione intende trasformare nel riferimento per la Stroke Unit. Infine l'augurio pasquale del Presidente tra un invito ad indossare la mascherina ed un monito a non mangiare troppe pastiere. La regione ha investito 10 milioni di euro sempre per la fase transitoria inauguriamo una sala multimediale per la formazione del personale abbiamo acquistato il robot Da Vinci per la chirurgia mini-invasiva abbiamo rinnovato tutto il parco delle TAC completiamo lavori per la procreazione medicalmente assistita per la Stroke Unit veramente un bel pacchetto di interventi che ripeto devono servirci ad attraversare questa fase transitoria di due anni e mezzo fino alla nuova realizzazione dell'ospedale Ruggi in zona pianeggiante. Siamo soddisfatti anche perché reggiamo bene per quanto riguarda il Covid ovviamente il mio appello è sempre ad avere il massimo di prudenza massimo di prudenza significa mantenere l'uso della mascherina sempre anche perché abbiamo abbiamo varianti che circolano avremo nel periodo estivo un rimescolamento sociale c'è una ripresa fortissima di turismo in tutta la regione anche in provincia di Salerno e quindi dobbiamo fare attenzione per evitare che poi a settembre ottobre riesploda il contagio quindi un po di prudenza per uscire definitivamente fuori da questa epidemia. Un messaggio, un augurio che vuole inviare ai campani per la Pasqua? Un augurio affettuoso ovviamente è buona Pasqua, veniamo da anni complicati, abbiamo ancora una situazione pesante in generale, arrivano nelle nostre case le immagini della guerra in Ucraina, dobbiamo augurarci che nelle prossime settimane si concluda questa tragedia con una intesa almeno per il cessato del fuoco. Non c'è da avere molte speranze a brevissimo, il lavoro andava fatto quattro mesi fa per impedire che avvenisse l'invasione dell'Ucraina, una volta partita la guerra dipende tutto dagli equilibri militari sul campo purtroppo. Auguriamoci ovviamente che si trovi finalmente una strada per riavviare il dialogo e trovare un compromesso politico. Non mi pare che ci sia molta gente interessata a trovare un compromesso e a trovare una soluzione di pace, ma dobbiamo sperare, dobbiamo insistere. Intanto ritorniamo nelle nostre famiglie, è Pasqua, ritroviamo gli affetti familiari, non esagerate con le pastiere e tutto il resto e mantenete la mascherina. Auguri di cuore a tutti.